... Clemente Neroni, delle Falasche, anche voi siete carichi per cominciare alla grande questo torneo. Insomma, voi avete sempre avuto tante squadre, con che tipo di obiettivo vi presentate quest'anno? L'obiettivo è quello che ci costranno di 5 sempre, come al solito, in questi anni. C'è il senso che noi porteremo i ragazzi per farli giocare tutti quanti. Quindi senza obiettivi finali, senza voglia di vincere o niente. Le Falasche, come mentalità, è quello di far giocare tutti i bambini. Quindi noi portiamo qui due categorie, quelle che mi faranno segnare gli organizzatori, ma esclusivamente i gruppi per farli divertire, per farli passare delle giornate insieme ad altri bambini.